Bagno di umiltà, allora senti questa storia, avevo 21-22 anni, avevo deciso che avrei fatto a tutti i costi il batterista di mestiere per cui decido di andare a studiare in una scuola, o almeno provo, una scuola importante a Brescia che era gestita da Alfredo Golino, c'era un sacco di richieste, dovevi fare l'audizione e io bagno di umiltà, mando la mail e scrivo sì vorrei venire in questa scuola per specializzarvi va bene vado a fare l'audizione, c'era Alfredo, c'era anche suo papà Antonio, grandissimo l'audizione dura poco, fai vedere i rudimenti, fai vedere le mani, suona due groove io pensavo già di saper suonare, Alfredo mi guarda e mi dice senti tu vuoi fare il batterista di lavoro perché noi qua cerchiamo di formare batteristi professionisti, assolutamente sì ok allora sappi che bisogna ricominciare da zero, allora in quel caso hai due possibilità o ti deprimi e smetti oppure ti succede come è successo a me che esci da quell'aula e dici sì lo voglio fare, comunque ero veramente un pollo